Nella prima giornata del gruppo L dei playoff di Champions League si affrontano la Dinamo, reduce dalle otto vittorie consecutive in campionato ma priva di Benjus e con molti acciaccati in campo recuperati in extremis e gli spagnoli del Saragoza al completo in zona playoff nella durissima ASB. Poz decide di partire con Kaspar Treier in quintetto cercando di non stravolgere l'assetto tipo ma Elias Harris 10 punti e 6 rimbalzi lo mette subito a dura prova attaccandolo in post basso. Linazon 6 rimbalzi e 4 stoppate oscura più di una volta la vallata in mezzo all'area. Sassari al 37% da 2 nel primo tempo. Hernandez manda raddoppi su tutti i post bassi del banco che segna 2 punti in 5 minuti ma soprattutto subisce l'emicidiale Folati di Ennis 14 punti con 6 assist e 5 su 12 dal campo e di uno strepitoso barreiro assoluto MVP spagnolo che fa la differenza con la sua taglia, la sua capacità di giocare senza palla e di mettere in difficoltà ogni avversario. Spi su 24 punti con 7 su 13 dal campo 8 assist e l'autentico trascinatore della Dinamo che prova a rimanere a tutti i modi attaccata al match. La squadra del Pozzi chiuderà con il 44% dal campo a un sussulto con le giocate di Bilan. 26 punti con 10 su 20 dal campo e 9 rimbalzi. I tentativi di Up e le magie del Mancino con la maglia numero 0 ma Saragozza trova risorse da tutti nonostante la serata assente del go to guy brussino. Wiley è micidiale atleticamente 13 punti con 6 su 8 3 stoppate per l'ex Gran Canaria con passaporto macedone. Benzing è il collante imprescindibile 5 rimbalzi, 5 assist e più 14 di plus minus con lui in campo. L'approccio dopo l'intervallo simile a quello con Venezia. La Dinamo ci prova in tutte le maniere. Poz parte con Ape e Bilan insieme. Sassari si sbuccia le ginocchia in difesa, aggredisce l'avversario ma Hernandez pesca due situazioni chiave per fare il break. La prima con la staffetta stile battaglia di San Michele Garcia turno su spisso con Ennis in panchina poi con la condivisione la pazienza in attacco. Record assoluto BCL con 27 assist che frutta un pazzesco 17 su 32 da 3 punti. Numero di triple guagliato a pari merito con i spagnoli del Burgos che spaccano la partita. Rashid Sulaimone il grande protagonista dell'allungo iberico 14 punti con 4 su 6 da 3 punti di coi 11 nella terza frazione. Sembra tutto finito al trentesimo. I primi 5 minuti dell'ultimo quarto sono da autentico libro cuore per il banco che senza energie rotazioni e sotto di 17 riesce a trovare ancora la forza per provare un'incredibile rimonta. Bilan mette alle corde Elias Harris da numero 5. Spissu primo giocatore della stagione sopra in più partite a 20 punti 5 rimbalzi e 5 assist spinge sull'acceleratore Barnell 8 punti 11 rimbalzi 7 assist allo sprazzo più bello del match. La Dinamo ci crede veramente ma il rigore sbagliato dal centro croato in contropiede e la grandinata successiva di tripli di Saragozza che ha vinto 12 partite su 13 segnando più di 85 punti dicono che il match non ha più storia. La difesa dentro l'area del Casade Mont con i propri lunghi la partita di Barreiro che chiude con 25 punti con 6 su 6 da 3 8 su 9 dal campo e la staffetta difensiva su Spissu sono le chiavi di un confronto che Sassari ha giocato purtroppo in maniera impari. Prestiti personali Banco di Sardegna Sogna in grande Banco di Sardegna Gruppo Piper